Delitto del carabiniere Licia Gioia, il marito davanti al GIP. La procura ha presentato al GIP richiesta di rinvio a giudizio per omicidio nei confronti di Francesco Ferrari. L'agente di polizia di 45 anni in servizio alla questura accusante di aver ucciso la moglie Licia Gioia. La sottofficiale dei carabiniere è ritrovata morta la notte del 28 febbraio 2017 nella villa della coppia incontrata Isola. Il GIP ha disposto l'udienza preliminare per il 7 marzo e in quell'occasione si saprà se ci sarà o meno il rinvio a giudizio dell'indagato. Per i magistrati il movente è da ricercare in una lite tra marito e moglie è finita in tragedia con quel colpo di pistola che ha fracassato il cranio della vittima. La coppia che era sposata da pochi mesi avrebbe avuto problemi legati, secondo una tesa investigativa, alla gelosia della donna per il marito. E questa sarebbe stata la molla, a parere dei magistrati, dello scontro in quella drammatica notte nella villa di Contrada Isola. Per il marito invece Licia Gioia sarebbe puntata alla tempia la sua arma di ordinanza e nonostante i suoi tentativi di dissuaderla e di stapparle l'arma non sarebbe riuscito nell'intento. Determinante, a fine dell'iscrizione nel registro degli indagati del poliziotto con l'accusa di omicidio del sotto ufficiale dell'arma, è stata la relazione del medico legale dei magistrati Francesco Co, quel cui esito dell'autopsia avrebbe lasciato pochi dubbi sulle responsabilità dell'agente di polizia. Nel corso del suo interrogatorio il medico legale, spiegando l'esito della sua perizia, ha sostenuto che l'ipotesi più probabile è che Licia Gioia abbia tentato di sfuggire a qualcuno. La sua non è una posizione usuale per un soggetto che intende suicidarsi. Inoltre, un paziente come Licia Gioia, che ha subito un grave sfascello encefalico, non avrebbe mai potuto esplodere un secondo colpo di pistola. Gli spari partiti dall'arma, un calibro 9 nella disponibilità di Licia Gioia, sono stati due, ma quello fatale, secondo il medico legale, è stato il primo che ha centrato la testa della vittima afferendola a morte. Un altro lato oscuro, rappresentato dal lasso di tempo trascorso tra il primo e il secondo sparo, per Coco, con una buona ragionevolezza logica e scientifica, sono trascorsi dai 10 ai 20 secondi. C'è però un'altra perizia, quella disposta dal GIP, eseguita da Domenico Compagnini, che invece andrebbe in direzione della tesi fornita dalla Poliziotto.